Il cogiuntivo si usa soprattutto nelle preposizioni dipendenti quando il predicato esprime un'opinione, un'incertezza, un'esperanza, una volontà, un timore, un dubbio. Dopo le espressioni personali come è probabile che o è giusto che è impossibile che tu vinca la cosa Dopo le espressioni che indicano uno stato d'anno sono felice che Luigi vada bene con la matematica Dopo il grado superlativo relativo e il viaggio più escomodo cambiano Dopo gli adiettivi indefiniti qualunque è cosciastica qualunque cosa chieda para soddisfare Dopo gli adverbi ovunque Prima che, aspecto che è inattesa che Aspetto che la macchina sappia molto Quando si inverte l'ordine delle preposizioni Che sia un cane pulito gozano tutto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti